The Last Dance, l'ultimo test, poi si farà sul serio. La primavera del Napoli, fra una settimana, scende in campo per l'esordio in campionato contro il Lecce. Gli azzurrini affrontano la Nocerina, squadra di Serie D allenata da Giuseppe Sannino, che ha conosciuto i campi di Serie A e Premier League sulle panchine di Siena, Chievo Verona e Watford. Il duello con Frustalupi ricorda anche una semifinale di Coppa Italia di dieci anni fa, un Napoli-Siena. La Nocerina parte forte, Mincica prima fa un tiro a giro che termina di poco a lato, poi ha una grande chance a tu per tu con Baufelli che gli respinge il tiro. Al sedicesimo il Napoli passa in vantaggio alla prima opportunità, calcio d'angolo dalla sinistra, stacca Obaretin, nuovo acquisto arrivato dal Milan e fa 1-0 per gli azzurrini. Al ventinovesimo risponde la Nocerina, spunto di Valentini sulla destra, cross al centro, girata di Basanini, ma Baufelli si allunga e devia in corner. L'ultima emozione del primo tempo è ancora opera dei Molossi, spunto di Basanini a destra, cross per Talamo che non riesce ad impattare il pallone. La Nocerina trova il pareggio ad inizio ripresa. Al quarantanovesimo Gaetano Mancino raccoglie palla in area di rigore e inventa un gran tiro battendo Baufelli. Risponde subito il Napoli, ci prova russo dalla distanza e il pallone termina di poco a lato. La partita si infiamma, Talamo raccoglie palla in area di rigore, si gira in mezzo a tre maglie azzurre e prova una conclusione che finisce abbondantemente a lato. Si abbatte il temporale sul San Francesco, l'impianto di illuminazione non funziona e diventa una partita a visibilità limitata, condizionata anche dalle tante sostituzioni. Al sessantatreesimo il Napoli torna in vantaggio, corner corto, cross di Spavone per Marchisano che di testa realizza il gol del 2-1. Al settantaduesimo la Nocerina trova la rete del 2-2, calcio d'angolo dalla destra, Magri inventa una girata al volo dopo la torre di un compagno. Baufelli la respinge ma per la terna arbitrale il pallone ha attraversato la linea. Al settantaseiesimo la Nocerina ha una grande occasione per il 3-2 e Nosegbe con un gran salvataggio ad evitare il gol. È l'ultima emozione, l'arbitro a causa della scarsa visibilità ferma la partita, finisce 2-2, Frustalupi raccoglie le indicazioni e ha una settimana per prepararsi all'esordio in campionato.